Biagio Mero, la nuovo socio del Campobasso, Salernitano Doc, come Agnello Aliberti, calcisticamente, non a livello di origini? No, Salernitano Doc, nel senso che tutta la mia vita finora si è svolta lì, sia a livello imprenditoriale, con l'eccezione della parte universitaria che invece svolgo a Foggia. Lei è un docente universitario, si occupa a livello di attività lavorativa di forniture ospedaliere? La mia attività è imprenditoriale nel campo delle forniture ospedaliere, nell'ambito della regione Campania e poi ho parallelamente un'attività universitaria, di carriera universitaria che svolgo a Foggia. E Aliberti l'ha coinvolta nel Campobasso? Perché? Non lo so, chiedetelo a lui. Probabilmente per una terza componente della mia vita che è quella della realizzazione e gestione di un centro sportivo abbastanza importante a Salerno, con Nessa Scuola Calcio e con quindi un'esperienza ormai quasi quadriennale di gestione di scuola calcio e quindi di interesse nel settore giovanile. Perfetto, allora in conferenza stampa profilo basso, nessun proclama bellicoso perché come ha detto Aliberti poi alla fine quando si parte d'estate tutte vogliono vincere, quindi è inutile stare a dire arriveremo primi e vinceremo il campionato, anche perché sono frasi, glielo dico, le abbiamo sentite tantissime volte, non ultime, 12 mesi fa. Tengo lo stesso profilo ma per differenziarmi leggermente non sposo mai quella di De Couberté. Quindi lei vuole vincere? Per forza. Senta, può essere un campobasso ambizioso questo di Anielo Aliberti? A parte il basso profilo che può dare un'impressione diversa da quelli che sono gli obiettivi di medio-lungo periodo, l'intenzione è quella di vincere nel realizzare il proprio progetto. Raffaele Novelli è la persona giusta? Sì, perché sposa l'esperienza di prima squadra con quella di settore giovanile e Campobasso in questo momento ha necessità di entrambe le componenti. Ha colpito una frase di Novelli, non ho paura a far giocare un sedicenne o diciassettenne. Donna Roma ha sedici anni e mezzo, è diventato il portiere titolare del Milan. Ha ragione, allora in conclusione cosa possiamo dire al pubblico perché c'era tanta gente ma come lei ben sa poi sono i risultati che fanno innamorare la gente. E ai risultati si contribuisce anche riempendo le gradiate di uno stadio, come diceva Liberti, non per l'aspetto economico, per il tifo, per la passione, per poter trascinare la squadra. Questa è una componente fondamentale.